Live reaction, Juventus-Napoli si dovrebbe giocare, infatti siamo qui che aspettiamo il pischio d'inizio è dura, fino alla fine forza Juventus, è una partita importante e mai mollare e crederci sempre, fino alla fine fino alla fine forza Juventus, adesso iniziano ovviamente, questa è la live reaction No, 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 ma non ci credo, no, dai, no, non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile ma non ci credo, non ci credo, non ci credo ma non è possibile, dai, no, no, dai siamo aggiatto un gol ronando nell'aria piccola ma mi ha acciccato il pallone poi dopo chiesa ha avuto anche una palla a gol importante guarda questo ma che giocata di chiesa ragazzi che giocata di chiesa anche l'inter a chi se ne fotte dell'inter devo guardare la juve ho detto proprio che giocata di chiesa mamma mio quanto amo chiesa cazzo quanto amo chiesa bravo chiesa bravo porca puttana ovunque bravo chiesa che cavolo era ora c***o rigore per il napoli 89 minuti entra petagna esce fabian ruizzi rigore molto discutibile per me molto discutibile molto discutibile ci hanno provato tutta la partita la partita ci ha provato Adani veramente 90 minuti di Adani sono troppi eh ragazzi ve lo dico insopportabile non ha detto una cosa decente non ha detto tira il signe il signe contro Gigi gol volta in Ponte l'amore prova l'entrata in partita dopo al tesi gol l'ambore prigliante puntato anche la porta via con 4 di Louretto di Tolti 14 cozì andamo i cerchi di idea ho un batone buttato dentro chiamato ataccato Vakata di Pala vakata inizia puntato dentro atcacca a panire la redditore il che è deputato metà metà in area andò da Lio ancora metà la vede di non sa poi che fa se lo fanno un po' poi che stanno fischia si si finisce 2 a 1 finisce 2 a 1 chiamate la ASL e se non l'avete fatto guardate il video post partita fino alla fine forza Juventus